Dal 4 al 6 ottobre torna ad Urbino per il dodicesimo anno il Festival del Giornalismo Culturale, organizzato dall'Istituto per la Formazione al Giornalismo e dall'Università in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e il Patrocinio della Regione. Tema al centro dell'edizione 2024 è Protagoniste, lo sguardo femminile nel giornalismo culturale. Un'edizione dunque che con ospiti, premi e approfondimenti porrà al centro del dibattito l'evoluzione che nel corso degli anni ha riguardato la presenza delle donne nella professione giornalistica fornendo elementi di riflessione sull'informazione culturale che hanno ricoperto le donne di ieri e le donne di oggi. Quest'anno mi fa piacere che protagoniste siano le donne all'interno appunto di questo festival dove sicuramente insomma l'aspetto femminile quindi il ruolo della donna in ambito giornalistico oggi sta prendendo sempre di più spazio e sicuramente le donne hanno una sensibilità particolare soprattutto verso alcuni temi e sono sicura che riusciranno insomma ad apportare al tema dell'informazione elementi sempre più preziosi. Le donne hanno un sentimento maggiore di rispetto nei confronti di quello che accade e anche un modo di raccontare più vicino alla gente, alle persone. pur nella loro correttezza e coerenza, quindi gli aspetti deontologici vengono molto rappresentati, io credo che il femminile sia assolutamente importante lo sguardo femminile sia nella cronaca che nella cultura nel mondo dell'informazione genericamente intesa. Deve essere un giornalismo più vicino alla realtà, più vicino alla realtà dove viene valorizzato il contributo che le donne danno alla società, alla cultura, all'economia e credo che appunto mettere l'accento su questo tema sia sicuramente un aspetto importante del festival di quest'anno. Grazie. 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 Grazie.